Il nostro obiettivo è come sempre, come nello statuto dell'associazione, quello di valorizzare le opere degli autori aretini e non di promuovere quei libri che hanno dei meriti perché sono veramente scritti bene. Il premio Tagete, che ogni anno conferisce riconoscimenti a scrittori nati o residenti nella provincia di Arezzo, taglia quest'anno il traguardo del quarto di secolo. Dal 2021 all'evento si unisce poi il premio letterario nazionale Etruria. Le attese premiazioni sono fissate per giovedì 16 novembre alle 16.30 nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo. Il lavoro è stato lungo, sia nella selezione, nella valutazione di tutte le opere arrivate, sia nel redigere attraverso le varie commissioni, le varie giurie, di redigere la rosa dei finalisti. Sono emersi sei finalisti per il premio Etruria poesia e sei per il premio Etruria narrativa, che sono tutti provenienti da varie parti d'Italia. Ospite d'onore della cerimonia lo scrittore Paolo Ruffilli, che tratteggerà l'opera di Italo Calvino, a cui quest'anno nel centenario della nascita è dedicato il premio Tagete. Abbiamo la fortuna di avere la sua collaborazione ormai da quattro anni. Lui è presidente del premio Etruria poesia, è nella giuria, e è anche membro unico della giuria degli inediti del Tagete, di racconto e di poesia. Sarà infine assegnato il premio Opera Omnia ad un personaggio che si è particolarmente distinto in ambito letterario e scientifico.